ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutto tech oggi facciamo questo video per avvertirvi che ci sono delle grosse novità per quanto riguarda il mondo amazon tutti i vari dispositivi di tutti gli eco le fire stick o comunque la buona parte di che cosa stiamo parlando delle super offerte di primavera che sta facendo in questo periodo amazon e quindi abbiamo detto informiamo coloro che ci seguono modo tale che se hanno una mezza intenzione di ampliare la gamma di prodotti che hanno a casa o di cominciare quindi voi neofiti che volete approcciare a questo mondo questa è l'occasione buona per poter entrare in questo fantastico mondo della domotica low cost perché comunque rispetto alla domotica quella reale i presti sono nettamente diversi le offerte che gli andremo ad elencare sono presenti naturalmente ad oggi che stiamo facendo il video e saranno valide fino al 13 di aprile poi naturalmente salvo esaurimento scorte è chiaro e salvo sorprese di amazon sulle consegne se non vi affrettate come è successo purtroppo noi con un bel prodotto che stiamo ancora aspettando vabbè ve lo diciamo noi abbiamo fatto l'ordine il 25 gennaio dell'eco show eravamo consapevoli che i tempi di consegna erano di due mesi arrivati al giorno della consegna ci dava ancora che la consegna veniva di quel determinato giorno dopo due ore la consegna è stata rimandata tra il 15 e il 25 aprile abbiamo contattato l'assistenza la quale ci ha bellamente rimbalzato dicendo ci dispiace ma è così quindi questa volta siamo rimasti un po male per come siamo stati trattati per quanto riguarda comunque un prodotto di alta gamma di amazon casa amazon poi non è che ho comprato la maglietta pinco palma però va bene chiusa la parentesi adesso procediamo a trovare le offerte ve le mostreremo vi diremo i prezzi dopodiché fate voi una valutazione in base a ciò che vi serve partiamo con un classico l'eco dot di quarta generazione quello rotondo per capirci la sfera esatto è in sconto al 50 per cento a un prezzo di 29 euro e 99 se cercate all'interno del canale troverete il video in cui lo testiamo lo proviamo e lo installiamo un ottimo prodotto noi abbiamo abbiamo testato abbiamo acquistato quello con l'orologio però trovate anche quello qui nel canale e adesso marco vi dirà che c'è lo stesso anche per quello quindi appunto riallacciandoci c'è anche l'eco dot di quarta generazione con l'orologio a 39 euro e 99 con un bel 40 per cento di sconto per scendere ancora di prezzo e avere comunque tutte le funzionalità della nostra assistente domotica abbiamo l'eco dot di terza generazione a un prezzo di 21 euro e 99 con il 56 per cento di sconto questo soprattutto lo consigliamo con le persone che stanno approcciando il mondo di amazon per quanto riguarda i dispositivi domotici perché comunque a questo prezzo mi dà la possibilità di poterlo abbinare delle lampadine delle prese smart a tutto quello che comunque vedete qui sul canale perché se siete le otti vi consigliamo di dare una scorsa a tutti i video che abbiamo fatto perché abbiamo presentato veramente tantissimi prodotti sia amazon sia di altre case che possono essere abbinati al nostro assistente vocale quindi tenete a mente questo prezzo e se avete qualche dubbio provate anche perché comunque poi potete se non siete soddisfatti rimandare indietro il prodotto volete un eco ma volete anche un video da poter guardare partiamo dall'eco show 8 che viene venduto a 89 euro e 99 con circa il 30 per cento di sconto quindi non male vi ricordiamo che questi prodotti oltre a comandare tutto quello che comandate di solito con un eco dot hanno anche la possibilità di farvi vedere dei video perché comunque hanno già delle app integrati tipo amazon prime netflix quindi potete vedere dei video potete vedere sky tg 24 quindi le notizie già lo zafferano quindi mi viene in mente se la mettete in camera da letto sul comodino vi dirà sì l'orario vi darà tutta una serie di informazioni potete mettere anche dei dei post it addirittura in modo tale che vi faccia anche da pre memoria insomma tutta una serie di funzioni abbinate alla nostra assistente vocale ma con l'ausilio anche nel video questo eco show l'otto a 89 euro e 99 quello di seconda generazione se no è presente anche sempre l'ecoshow 8 ma di prima generazione a 64 euro e 99 con circa il 40 per cento di sconto chiudiamo con l'ecoshow più piccolino l'ecoshow 5 di seconda generazione venduto a 49 euro e 99 con un bello sconto di circa il 40 per cento nikamalek tenete presente appunto che questa è la categoria per quanto riguarda gli eco con il monitor adesso andiamo ad illustrarvi invece le famose fire stick che hanno comunque riscosso un buon successo e hanno un mondo tutto da scoprire anche quello andate a vedere i nostri video qui sul canale perché abbiamo fatto un po di video alla scoperta di funzioni particolari vi presentiamo prima la la fire tv stick light prezzo 19 euro 99 anche questo un fortissimo sconto e abbiamo una fire stick che ha tutte le possibilità delle altre ma che non ha i comandi vocali per poter remotare il vostro televisore dopo di che abbiamo la fire tv stick prezzo 24 euro 99 e qui abbiamo oltre al nostro assistente vocale integrata anche la possibilità di poter comandare i vocalmente il nostro televisore poi abbiamo la fire tv stick 4k come dice stesso la parola la possibilità anche di gestire il 4k come risoluzione e concludiamo con la fire tv stick max ad un prezzo di 39 euro 99 e la differenza con la sua precedente la 4k normale è un processore molto più veloce la capacità delle due fire stick è differente nella misura di un giga e mezzo per la 4k diciamo normale passatemi termini la max e 2 giga e per di più supporta anche il wifi 6 abbiamo poi cambiando categoria andando sulle videocamere di sicurezza la famoso marchio sempre amazon praticamente la blink c'è un'offerta che comprende due videocamere da interno senza fili quindi grandissima comodità vengono limitate tramite pile che blink garantisce che durano due anni all'incirca e sono ad un prezzo di 89 euro e 99 passiamo un altro prodotto che è veramente molto in voga ormai noi non abbiamo testato su questo canale però ma le nostre mogli sono felici possessori dei kindle i famosi ebook quindi anziché portarsi dietro mangiate chili e chili di libri in un bellissimo dispositivo sottile leggerissimo possono portarsi dietro tutta la loro biblioteca a detta loro è un prodotto che non affatica assolutamente la vista si legge tranquillamente anche di notte e ha molte caratteristiche positive perché appunto come dice marco vi potete portare dietro un sacco di libri tutti all'interno di un dispositivo molto piccolo molto compatto discreto e che vi dà la possibilità di poter leggere il vostro libro preferito ovunque voi vogliate questo legato poi ad un abbonamento che si può fare con amazon e farvi scaricare tutta una serie di ebook se questo non volete farlo ci sono tanti altri modi per poterlo inserire questo poi scopritelo voi noi non entriamo nel merito della cosa esistono due versioni dello stesso candle c'è una versione a 54 euro 99 con pubblicità e una 64 euro 99 senza pubblicità cosa vuol dire nel momento in cui il vostro salva schermo andrà in accensione quindi funzionerà il salva schermo comparirà un bundle pubblicitario obiettivamente valutate voi se vi dà fastidio quando non utilizzate che ci sia lì un bundle pubblicitario e allora spendete 10 euro in meno se vi dà fastidio spendete 10 euro in più e non avete questo tipo di problema passiamo a prodotti per la pulizia della casa c'è veramente un'offerta molto interessante su un prodotto xiaomi di cui noi abbiamo fatto una recensione in un video precedente di un altro modello ma vi assicuro che funziona ancora perfettamente a distanza di due anni veramente un ottimo prodotto e questa è un'evoluzione di quello che abbiamo fatto noi il video quindi ancora meglio andrà di sicuro e poi andate a cercare il video qui nel canale perché abbiamo veramente fatto una miriade di video su tanti prodotti e uno di questi è quello che mi sta presentando marco con la versione diciamo precedente qualche versione precedente perché ci sono state due o tre nel framezzo parliamo del vacuum mop 2s è un robot che lava e aspira vedendo le immagini hanno migliorato di molto il panno che viene attaccato nella parte sotto che permette appunto di lavare in giro in quanto nel modello che abbiamo testato noi rimaneva un po sollevato da terra e faceva un po fatica a passare proprio bene 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 anche se funzionava comunque in questo modello hanno rialzato lo spessore e quindi ci sembrerebbe esserci proprio un contatto maggiore con la superficie del parimento esatto perfetto il prezzo di questo 199 euro al posto di 299 euro ottima offerta veramente bene ragazzi speriamo che questo video sia stato utile che troviate l'offerta che fa per voi trovate qui sotto tutti i link dei prodotti che vi abbiamo presentato oggi e i video nel canale io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao